Allora, gli atleti che preghiamo di prepararsi per la prossima serie sono gli atleti con i numeri che vanno dal treno e Binfa. Il primo atleta secco a prendere il via, Richard Usla. Ricordiamo che per il tabellone eliminazione di direzza, poi si qualificheranno i primi e seguiranno le partenze. Il secondo atleta a partire, Kai Imonen, sicuramente uno dei favoriti per le direzze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.